Salve a tutti, bentornati qui sul mio canale, questa sera video breve, farò un video breve semplicemente per dirvi una cosa, ci tenevo tanto, ci tenevo, era una cosa mia sentita nei confronti di tutti voi che siete iscritti al mio canale, che guardate i miei video, che lasciate commenti, che lasciate like e niente, volevo semplicemente dirvi questo, ragazzi, grazie infinite, 500 volte grazie a tutti. Ragazzi, io non immaginavo di ricevere tal consenso da parte vostra, vi sono infinitamente grato, ho incominciato questo mio percorso, diciamo, questa mia passione, così, casualmente ho incominciato all'inizio a fare video su gameplay, poi piano piano sono passato a fare video sul Pescara, all'inizio mi sentivo anche, devo dire, un po' a disagio perché non è facile parlare, e man mano sto lavorandoci su, anche su questa cosa, per essere un po' più spigliato, più tranquillo quando faccio video, un po' più me stesso, e va bene così. Quindi volevo ringraziarvi perché sono arrivato al grande traguardo dei 500 iscritti, adesso ne siamo pure qualcuno di più, io vi voglio dire grazie perché mi fa piacere tutto questo seguito da parte vostra, mi fa piacere che i video miei alla fine vi piacere, tranne qualcuno che poi viene sempre a lasciare il pollice in giù, non fa niente, ci sta anche quello, non si può piacere a tutti, non si può essere simpatici a tutti, non si può avere il consenso di tutti. Ricordo sempre che ciò che io dico non ho la presunzione di dire che sia sempre la verità, anzi non il sempre che sia la verità, non ho la presunzione che tutto ciò che dico sia giusto, perché posso anche sbagliare in alcune mie valutazioni, io cerco sempre di essere obiettivo senza fare poi favoritismi in base se una persona mi sta simpatica o no, sono fatto così, mi piace sempre dire le cose dirette nel modo più naturale possibile e quindi vi ringrazio per tutto ciò che fate e che dite nei miei confronti, mi fanno piacere tutti i commenti, sia pro che contro, ci mancherebbe, non c'è problema, è bello sempre il confronto, a me sì è vero, ogni tanto faccio qualche video gogliardico anche nei confronti di altre tifoserie, però si entra sempre nel discorso che ci sta, c'è la gogliardia, c'è lo sfotto, però poi non si deve mai oltrepassare il limite dell'educazione. Io sono una persona educata, a modo, rispondo in modo maleducato a chi viene a commentare in modo maleducato, cioè ci sono persone che vengono a insultarmi, persone che vengono a parlare male di uno tifosi del Pescara, ci sono persone di tifoserie anche rivali alla nostra che vengono e lasciano commenti sui miei video in modo civile ed educato, ai quali io rispondo in modo civile ed educato. Quindi voglio ringraziare nuovamente tutti i ragazzi, voglio rinnovare a tutti voi che mi state guardando ora a lasciare like su questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale qui su YouTube, fate l'iscrizione se non siete iscritti a YouTube, iscrivetevi a YouTube e lasciate il like sul mio canale, attivate sempre la campanella così poi quando io carico i video vi arriva la notifica sul cellulare o sul PC e niente, io vi ringrazio ancora una volta, adesso vi saluto, vi auguro una buona serata e sempre Forza Pescara, ci vediamo alla prossima, buonanotte, ciao a tutti!